buongiorno a tutti bentornati allora andiamo a parlare in questo video di arricciamento fogliare nel pomodoro a pieno campo estivo principalmente va bene perché è un fenomeno molto discusso nei nostri vari gruppi anzi ne approfitto per invitarvi ad iscrivervi anche in tutti gli altri nostri canali quindi siamo sui social su facebook su instagram su telegram c'è il blog dove facciamo molti approfondimenti articoli e riassunti delle dosi e quindi ci dovete seguire a 360 gradi fate i bravi picciotti lo sapete e iscrivetevi soprattutto qui va bene quindi mi sono messo all'ombre perché c'è tanto caldo e veramente tanto infatti il problema principale è questo ora andiamo a vedere le piante vi spiegherò un po tutto andiamo così facciamo una cosa veloce indolore quindi arricciamento fogliare quando noi vediamo la presenza di questo tipo di accartocciamento di arricciamento fogliare nelle parti più basse della pianta diciamo che non ci dobbiamo preoccupare più di tanto perché guardando la parte apicale della pianta vediamo che tutto a posto come abbiamo visto in un video recente va bene questo fenomeno di arricciamento così è dovuto troppo caldo all'esagerata esposizione al sole anche se la pianta di pomodoro diciamo preferisce appunto è una pianta che preferisce stare al sole per questo anche abbiamo consigliato e di andare ad ombreggiare ok per ridurre di un 20 per cento almeno la quantità di luce solare questo qui invece è un altro tipo di arricciamento fogliare si vede subito intanto perché è presente in tutte le foglie della pianta queste sono due vicine questa è una virosi questo è un tipo di virosi però diciamo che non ci dobbiamo preoccupare all armare più di tanto quella la virosi veramente pericolosa è il famoso arricciamento fogliare giallo del pomodoro ok e sarebbe questa qui questa qui vediamo che nella parte apicale è al contrario in pratica si vede dalla parte apicale quindi magari le prime foglie non sono arricciate vedete quelle in basso ok sono queste invece la porta apicale inizia ad avere questo fenomeno di arricciamento ed è irregolare non è regolare come quello che abbiamo visto nell'altra pianta e soprattutto la colorazione tende al giallo e si vedrà sempre di più spero si vederà bene dal video si vedrà sempre di più questo fenomeno con il passare del tempo in quanto la questa virosi ora iniziamo andare all'ombra perché sennò si surriscalda è la terza volta che faccio questo video vi confesso si surriscalda la videocamera va bene c'è parecchio sole ok ora ne possiamo parlare ora vi dirò tutto quindi questo arricciamento fogliare giallo perché è pericoloso scusate che io mi appoggio qua sul mio questo è un portacellulare porta produttori di fiducia tutte cose è molto pericoloso per noi perché intanto vi assicuro che questo qui la presenza che c'è nel nostro campo di pomodori di questa virosi è dovuta insomma viene viene dalle piantine dal vivaio scusate ho preso troppo sole prima l'ho preso nelle serre ora qui troppo caldo quindi questo è sicuro perché non aveva non c'era presenza di insetto quando abbiamo trapiantato e fino a per un paio di settimane poi cosa succede se ci danno le piantine infette dal vivaio non per dare colpa al vivaio ma può succedere per tanti motivi e anche se noi andiamo a tratti a trattare le piantine con i nostri parliamo sempre con i nostri mezzi e biologici no consentiti in agricoltura biologica quindi sostanze naturali ne ho parlato diverse volte ci sono dei video specifici li troverete sicuramente nei link in descrizione nei video delle schede eccetera e non posso ripetere sempre la stessa cosa come sapete quindi cosa succede le piantine infette magari potrebbe ci potrebbe essere la presenza delle uova dell'insetto va bene che sono le famose alle aurodidi e quella che trasmette questa virosi bruttissima e la bemisia tabaci che in pratica ad occhio nudo sempre uguale ha delle piccole differenze che appunto ad occhio nudo non si vede quindi noi dopo un paio di settimane potremmo essere tanto vediamo perché in questo periodo dopo due settimane vediamo le piante quelle affette da virosi queste piante possono avere anche le uova dell'insetto quindi si schiuderanno anche le uova e vediamo la presenza di insetto ok quando accade questo intanto io ho sempre consigliato per le prime tre settimane di fare i trattamenti veloci magari con poca miscela acquosa però almeno due volte a settimana per aumentare sempre mantenere sempre la repellenza andare a colpire gli insetti che a man mano si man mano si presentano no quindi dopo due settimane quello che possono essere tre possono essere una settimana e qualcosa va bene se vediamo la presenza di insetto dobbiamo preoccuparci veramente perché quel tipo di virosi è molto molto pericolosa e diciamo può contaminare facilmente a più della metà del nostro campo del nostro orto di pomodori va bene quindi quella è una virosi veramente pericolosa e dobbiamo agire ok questo è il problema del quindi quando vediamo un arricciamento ricapitolando un arricciamento nelle foglie quelle più vecchie fra parentesi della della pianta non ci dobbiamo preoccupare se la pianta presenta l'arricciamento in tutte le foglie sicuramente una virosi ma non è la temibile virosi dell'arricciamento fogliare giallo che invece li dobbiamo stare molto attenti in quanto se vediamo la presenza della presenza delle famose mosche bianche quindi l'insetto che la la fa diffondere dobbiamo intervenire già preventivamente da prima perché sono poi all'ultimo momento non riusciamo a quantomeno a contenere efficacemente il fenomeno fenomeno negativo in pratica quindi signori ripeto l'arma sempre principale è la prevenzione io lo dirò fino a quando ne avrò le forze la prevenzione è tutto parliamo di agricoltura sostenibile con sostanze naturali tutte ammesse in agricoltura biologica quindi magari ci sono dei prodotti chimici che sono più efficaci sotto questo punto di vista però pian piano per quello che per le mie conoscenze pian piano li stanno togliendo tutti quelle lì quindi forse che il futuro sarà appunto così prevenzione e prodotti naturali va bene speriamo da una parte spero di avervi chiarito le idee e per il resto fate i bravi picciotti mi raccomando la prevenzione trattate con prodotti biologici guardate dietro di me salutate ciao